Parte giovedì prossimo 12 aprile da Alghero la seconda edizione di Frimmos, il progetto ideato dalla Fondazione Maria Carta con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sul fenomeno dello spopolamento che investe interi piccoli centri della Sardegna. La prima tappa del 2018 si svolge significativamente in una scuola, la media Maria Carta di Via Malta, istituto comprensivo numero 2 di Alghero. Gli studenti parleranno di spopolamento confrontandosi con amministratori, docenti, imprenditori e artisti. Il programma della giornata prevede l'apertura alle 9.30 affidata al coro giovanile Maria Carta. Seguiranno i saluti della dirigente scolastica Angela Kerveddu, di Mario Bruno, sindaco di Alghero e dei primi cittadini dei comuni che hanno ospitato le tappe di Frimmos lo scorso anno, Monte Leone Rocadoria, Baradili, Sassari e Fonni. Leonardo Marras porterà invece il saluto della fondazione Maria Carta. Alle 10 l'inizio della discussione con docenti universitari, giornalisti, sociologi ed esponenti del mondo del lavoro e dell'impresa. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, spazio agli interventi musicali, con la partecipazione tra gli altri Dei Bertas, Fanta Folk, Franca Masu, Gravity Sixty, Maria Giovanna Cherchi, Piero Marras e Tazenda. Verrà inoltre presentato il video ufficiale della canzone Frimmos, con testo di Michele Pioledda e Mariano Melis, che ha curato anche le musiche.